eh non è fatto un bel po' guardate che da qua ieri sera riuscivo ad arrivare fino a qua adesso arrivo massimo qua più o meno da questa distanza riuscivo ad arrivare a mettere il muro perfetto adesso è un bel po' nerfato perché non c'è nessuno double door? mannaggia la pupazza un bel casino raga bel casino sta roba qua sulla stage un po' 2 1 more mid 3 3 7 8 8 8 On the right side? Yes, yes, yes. Si, si. Si. On the box. Thank you. Buongiorno, bro. Non c'è barrio in lung C? Non c'è barrio in lung. I miroggio. T'chè barrio in lung? What the fuck? ... 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 ah minchia io non lo vedo più si leva questo non l'ho capito era davanti a me dove cazzo sono andati i colpi poi ovviamente lei mi mi ecciotta perchè ha il vandal long 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 da dove da dove mi ha ucciso da attraverso il muro ma non capisco quale ah da lì minchia che che bella che bella 1 on A, for sure. It's 8, it's 8, it's 8. Multiple enemies spotted, multiple enemies ahead. Yo. I'm not sure. Enemy spotted. You're nothing. One enemy remaining. Spec spotted. Vilas, bi-bi-bi. Last player standing. Where's, where's, where's? 30 seconds left. Spike planted. Your juicy is not over. Thank you. Joke's over. You're dead. Nice. Thanks for flash. Thanks for flash. Can you hit me? Can you hit me? No, you can't hit me. I can't. I don't have it. Like this. Okay. One enemy remaining. Cioè guardate quanto mi devo avvicinare Per mettere sta cazzo di cosa A me sembra un po' troppo un po' esagerato Comunque What? 100 100 gli ho sparato prima io di lui Però Green Green no Sì Sì